Care Aquile, in questo particolare momento ci si aspetterebbe che le regioni, nel legifrare, nell'emettere ordinanze e leggi regionali, si dedichino esclusivamente o quasi alle misure per contrastare la diffusione di questo ormai famoso coronavirus. In Friuli pare non essere così, perché con la scusa del virus c'è il rischio di aprire le porte alla distruzione del territorio della nostra regione. La legge regionale 5-2020, approvata in modo unanime da tutte le forze politiche presenti in consiglio regionale, già entrata in vigore tra l'altro lo scorso primo aprile con la sua pubblicazione nel Burre, tratta naturalmente le ulteriori misure per far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ma al suo articolo 9, quindi articolo 9 legge 5-2020, si introducono modifiche procedurali, sostanziali e potenzialmente anche radicali, con esiti naturalmente gravissimi, rispetto alla precedente disciplina legislativa e amministrativa regionale in materia di utilizzo e tutela del territorio e del paesaggio. In buona sostanza, mediante questa legge regionale legata al coronavirus, la Giunta e il Consiglio vanno ad apportare modifica alla complessa pianificazione regionale che in regione garantisce la tutela del territorio e del paesaggio, sospendendo l'imminente entrata in vigore del piano di governo del territorio. La cosa è estremamente grave, inopportuna e potenzialmente anche sospetta, visto che eventuali azioni sul piano territoriale regionale non si legano minimamente a questa emergenza in atto, poiché il territorio è inorganico e quindi col virus non c'entra nulla. Mentre potrebbero invece avere un senso se fossero operati in un momento ben diverso e più sereno, coinvolgendo naturalmente tutte le forze politiche presenti nel Consiglio regionale, coinvolgendo tutte le associazioni ambientali, dei coltivatori, coinvolgendo operatori boschivi, turistici, economici e anche e soprattutto i sindaci, il cui territorio dovesse essere interessato a modifiche di ristrazione ed uso. Noi di Aquile dal Friul, contro questo articolo 9, chiediamo a tutti i cittadini di questa regione, alle associazioni ambientali, ai sindaci e in generale a tutti coloro che intendono evitare che in un prossimo futuro si possano creare le condizioni per un potenziale quanto pericoloso scempio ambientale del nostro delicato territorio, di attivarsi per far sentire la propria voce, chiedendo agli enti preposti di procedere urgentemente all'impugnazione costituzionale in via principale e cautelare dell'articolo 9 della legge regionale 5-2020. Ci sono scadenze incombenti a breve, è particolarmente importante farlo subito. Forza Aquile!